Doss die che non lo usiamo mai tanto ce l'ho al 60 pokémon naso si sai i cazzoni ciao belli, ciao a tutti cari che squadra avete usato? manca il ghiaccio? che senso ha ghiaccio sulla terra? scuse ma è la roccia che la spacca non è la terra che cazzo se ne frega no, la roccia rompe il ghiaccio 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 è il ghiaccio rompe il ghiaccio è veramente brutto è veramente brutto a me piace questo è una bayblade è certo, è una trottola raffanculo mi fa impazzire che c'ha solo il coso sopra che gira che non vuol dire un cazzo allora faccio una bella pompata ragazzi idrobreccia tanto sicuro si mette subito come va ragazzi io sono veramente stanco infatti ti chiedo scusa se non mi sembro brillantissimo non sono triste sono solo veramente tanto stanco Marco non dormi mai niente per metterti la droga del bicchiero e no tra l'altro oggi siccome dovevo arrivare comunque a fine giornata perchè non ho potuto riposare di pomeriggio mi son preso uno storm energy e quindi anche con quello non sarei addormentato comunque quindi vabbè se hai visto me hai visto anche Marco a me no chi è che è il cock? tu tu ma di già scusa scusa marchettone no no duro ma io lo uso storm energy ma funziona bene ancora erba contro terra porca dalle di erba erba l'ho detto prima della battaglia erba contro erba contro terra perchè devi far male l'erba contro terra scusa perchè la rompe perchè la erba rompe l'erba che si si rompe l'erba che si rompe la terra deficiente e la cosa pazzi scusa e quanto specifico è male è come l'acqua che spegne il fuoco non è che... come non è normale l'acqua che spegne il fuoco scusa quella è normale ma anche l'erba che rompe la terra l'erba rompe sia la roccia che la terra con le radici e con l'erba da sempre, dai secoli da quando c'è l'erba nel mondo eh da secoli proprio veramente è una vita nel 1500 l'erba mica c'era Marco eh no infatti andavano in giro scalzi è vero perchè tanto era tutto piastrellato evidentemente no era tutto parche una volta non c'è che comodo tutto il mondo di placche però anche Nolo grazie due mesi di sollievo per la tosta spaccalo Morelli ma ti hai messo ai comodi già? non avessi scari da prima eh per te è un cazzo di problema a parte che io l'ultima volta che mi hai detto batteria scarica si ci ha messo un quarto d'ora io ci ho giocato quattro ore di fila e non si è scaricato poi avessi scari da prima continuava a comparire poi in realtà puoi giocare anche con uno solo eh in realtà c'è la prima opzione da mettere che puoi giocare con uno solo ho capito ma perchè Skycadget di studio dopo di... ciao sono la sono morto ottimo tra l'altro volevo vedermi appunto un po' di offerte oggi ma ho visto le solite che avevo visto ieri che non ho avuto modo intanto Moro metti il link delle off-kier abbiamo messo anche nel gruppo dei sub un file excel che adesso viene da Moro che è sempre lì fissato c'è questo con le offerte che è l'excel oppure questo qui che il negozio lo sta ravanando Luke ci sta mettendo tutte le cose anche lì certamente è tutto nel foglio excel c'è anche quel negozio eh? sono già in sconto 0.4 come non sono in sconto? si sono già in sconto eh fin eh grazie al cazzo la stiamo facendo per quello no la roba si so metterla escusami no i primari sono i miei sconti in anticipo almeno ci arrestano esatto ma perchè mi devi mandare il tipo? spero il monitor eh per quello aspetta eh allora il monitor per adesso c'era solo qualcosina però c'era tipo un un benchiu mi pare ok però costava 400 euro scontato no ma li metteranno metteranno comunque sicuramente cioè almeno l'anno scorso ce ne erano un sacco e queste qui comunque non sono le offerte del black friday sono le offerte in attesa del black friday poi nel black friday secondo me c'è ci sarà molta più roba immagino sarà un sacco di roba dovrebbe morire in teoria con questo tra l'altro ci sono anche queste fuche in offerta adesso quanto moro? le vuoi? anch'io le voglio moro no ti inculio io non ti compro veramente più un cazzo di niente no io le voglio moro no marco tu fottiti scusa scusa io che le voglio belle lui c'è quella della tratta credo in me beh tu avevi quella della lidl ti riporto chi? come? tu non avevi tempo a parlare avevi quale presa sul mercato parla veramente dalla prima volta che abbiamo parlato eh parla anche io ce ne vuole sei anni ma penso che anche tu hai riportato male è uscito subito ma scusa io non l'ho neanche catturato perchè non mi serviva un cazzo io ho sempre avuto le 11 sempre al massimo ho avuto le logitech g cos'erano? no l'ho preso che schifo bronzo allora fatemi vedere quello viola che è sempre crepi c'erano uno dall'altra parte del mondo c'erano due dall'altra parte del mondo carabelle xl e una comunque non erano della logitech infatti lui era l'unico che è partito con le cuffie decenti fra l'altro erba e acciaio no io non ho mai avuto cuffie del cazzo no erba acciaio e ferro tornet io no ce l'ho già ma poi eh vado a vedere c'erano uno qua di fianco cosa c'hai te? ma te c'hai i balltand che che c'ho io? è il balltand c'hai il cane elettrico no 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 non è un cane ah il polipetto 5 stelle amici è un vello 5 normale è un vello 5 normale che cazzo è la pecore credo che sia la pecore non lo so eh ho capito ma che cazzo me ne frega ancora di più della pecore vabbè no io c'ho ah volete che vado a prendere quello viola? eh vai a vedere è sempre crepi tanto eh io c'ho whiskas no era ma un turno quello ma io non ne vedo più io mi hai sentito dov' avvicinarmi mamma che lag mamma che lag si mi ha laggato anche me la falsità mamma mia e questo qui normale non so cosa sia vorrei dimmi ci vedo a una distanza bene quelli di Iodo o devo avvicinarmi tantissimo? no si non si nota i raggi li vedi tutti bene eh no no non ci ne incorporerai scusami amici erba acciaio è sempre quella quella pre di... ma in casa usate la folla? tra l'altro abbiamo visto che il desioblo cioè le tane eh c'è c'è tipo la tanna del drago la tanna... posto tipo io ho scoperto io ho scoperto quella folletto volendo prova ma come puoi scappare? eh? puoi capirlo aspetta c'è un... combatti aspetta c'è un 5 psico volante psico volante boh beh proviamo che cazzo è... ah no è coso è... xatu? ma puoi? no è volante si è volante no è psico... no è psico... non ci più basta non mi sembra schifo schifo amici aspettate che Wobbuffet mi sta facendo le balle e non posso fare fuga prova... prova ad avviarlo che vedo la notifica ah giusto stiamo mandando la foto su tele ah c'è anche Zubat che è vero ma porca puttana l'ho schifato 5 stelle di Zubat o Sigil o Sigil Sigil Steven grazie Steven com'è che si faceva? ah password Carmelion vorrebbe imparare l'accelerazione se questo mando te coglioni lo prendo due ehm... ok mi prendo due desioblocchi provate aspettate un attimo ehm... Zubat quello lì è l'evoluzione di Zubat non ce l'ho mi sa però eh facciamola cagare però meglio degli altri sicuramente bellissimo Sindris infatti povolante quindi tuor cioè elettro e... ehm... buio elettro, roccia o ghost mi pare buio o ghost vabbè prendo... prendo Gengare ok io lo so chi devo prendere adesso vi faccio vedere ho sbagliato tasto no questo prendo Gengare non c'è bisogno che fai la telecronica l'unica cosa che fai non c'è quello di Ezra vabbè oh sì, ecco qua credo oh fratellino ma fammi cambiare anche se potrei tenere lui ma che parla alzate come vuoi ce l'ho mosso a spettro dov'è dov'è lo vuoi usare? posso dovete invece voi in chat mi spazio via spettro, buio, roccia elettro grazie a Oicek grazie mille Oicek saluta veloce prima di andare a prendere il treno sto proprio da Trenzela che qua sta più comunque amici ehm... questa notte ho comprato quattro giochi ehm... beh erano scontati se va bene ti durano quattro live no non durano di più magari sei più esperto non so delle auricolari ah auricolari per cellulare il mio budget è 50 euro non c'erano quelle della... qui c'era la K0 dice lui Razer la Razer non c'erano gli 80 euro ne dubito lo stanno di più dubito che la Razer è 50 euro a 50 euro di buono non ci compri un cazzo auricolari no ehm... allora aspetta intendi wireless o col cavo col cavo ce ne sono un botto no voglio le wireless tanto ormai ci rinuncia le... se... aspetta eh se le vuoi con... se ti basta... se ti... no col cavo ti van bene ci sono le... Xiaomi Piston Pistol Piston sono sempre ottime beh per una volta posso farlo guarda... eh... e... io voglio recuperarmi poi la lag di Karina perchè non ho visto è veramente un capolavoro il gioco che ho fatto faremo oggi ma dura una live? eh... si dura... due orette e mezzo che si è fatto scusa? vabbè è come The Stanley Parable ah ok però è veramente un capolavoro quel gioco lì però non ha senso quello che faccio la notte che bella la mossa ombra mi piace un casino si guarda che bello tutto paciocone che è non ho visto il gioco no in realtà i giochi che ho comprato sono eh... Bigfoot in realtà ahah perchè è in sconto è bellissimo e tra l'altro si ma dalle immagini è completamente diverso da quando lo avete fatto te Gastonar ah ma quel Bigfoot ok eh teoricamente si è quello cioè non c'è la neve non c'è niente di... magari l'hanno aggiornato un po' visto che non lo facciamo da un anno tipo poi ho preso Finding Bigfoot Bigfoot no non si chiama Finding Bigfoot si chiama Bigfoot magari l'hanno cambiato nome e non è quello eh c'è solo... Finding Bigfoot perchè anche io mi ricordavo Finding Bigfoot ma non ho trovato veramente niente però effettivamente questo qui sembra estremamente più bello di quello che avete giocato voi quindi non lo so ah l'hai comprato da Steam? si fammi dare un occhio tanto la mossa l'ho già cambio mossa di una volta ti dice con le cuffie comunque e col cavo si col cavo le xiaomi piston le xiaomi piston hybrid sono quelle che c'ho io ma saranno uscite anche dei modelli nuovi però le xiaomi piston costano intorno ai 35 euro tipo roba così no ma io non li vedo ah ma li hai comprati col codice? no su Steam li ho presi e dovresti... dovrei vederlo nelle attività che cazzo ne so poi ho preso Conarium però quello lì perchè mi sa che è più lunghetto magari noi iniziamo settimana prossima poi ho comprato Red Room e... Red Room? Red Room, si e un altro che sono due euro che sembrava bruttissimo questo è sorprendo perchè c'è un bigfoot che costa 13 euro si quello lì tra l'altro mi dice che non ce l'hai tu e quello lì non è quello che ho io no no è nuovo eh boh però sembra... cioè il concetto sembra la stessa cosa ma quella grafica meglio però mi sa il tuo, sai che mi sa che non c'è più? può darsi magari ha chiuso tutto magari si funziona? 1 1 2 2 3 2 3 CORVO yes ma grazie CORVO CORVO bianco il più bello è che lì niente si guarda ma soprattutto bugiarlo ah niente sconfitto io ho sconfitto boobies ah bello boobies stati di due che sono saliti del box non ne piova niente su questa di merda io provo ad andare verso dove c'era la tana a folletto ma penso che ogni giorno cambino 5 stemmi normale erbacciaio eh no e ferro mettetelo nel sedere vado torno al al crebio vado a vado a comprare un desigio blu ah ho trovato la piccola che c'è scusa rosa come boobies come boobies come boobies come boobies ah ah su dovuto lo volete fare? nooo è in 5 roccia ma si ma toglia già lo tolgo già lo tolgo in testa su dovuto è bellissimo su dovuto provetti che ci sta dai no ma non è un ride l'ho trovato l'ho investito con la bicicletta l'ho investito che scatti belli anche per questo in frame ma perchè? lo fatturo con la master amici avvio avvio mmm crebbi? 3 stelle in realtà però è viola nooo ma allora no ma è viola da un botto di ricompessa eh ma non è vero se è 3 stelle da da con quel cazzo no perchè è viola cosa cambia ma magari non ho capito è viola cioè che cazzo me ne frega anche io l'altra volta cioè io ho finito il gioco e mi ha dato un 2 stelle viola ma che cazzo me ne frega a me? scusa ho un ride in acqua vediamo un po' come è un po' come è un po' come ma stia cazzo è per non si esita ogni tot è andare a prendere anche quella e sono un po' nanti di nuovi eh teoricamente non può porre esetto no? eh non ci sono quanti viewer ah ma ci vuole un po' ci vuole io sto provando ad andare l'altra volta di live e sono sempre i master li stessi è la cosa di tipo con letto è da drive che non faccio ride e non li tocco e non c'è neanche uno ciò eh beh vabbè nell'acqua mi ha dato battle free nell'acqua mi ha dato battle free? si ecco le ottene volante e poi le prese di mettiamo un desiblocco dove? dove dove dove? eh lo butto qui aspetta che lo butto io qua fa vedere se ci sono ancora i folletti i folletti? i folletti? l'anda delle pietre non mi ispira se non posso metterle i desiblocchi eh si c'è ancora garde voire alle 4 stelle beh a volte farlo non mi dici vabbè mi piace come può vabbè vedo una sega proprio questo cazzo di nebbia c'è il ragno giallo calvantum c'è sempre una zetta da quello che abbiamo fatto però sono quelli rari chi era biondo Marco? eh crebbi 3 stelle era raro crebbi ma non lo facciamo chissà frega eh siamo altri rai adesso l'ho avviato adesso l'ho avviato l'hai avviato Morelli ma porca puttana mi hai perso io un po' davanti che hai chiesto cosa cos'è Boone Sweet? ah ah tranquillo non so bastardo capito sta laggando veramente un sacco eh eh si dov'è la boone ho capito ho sei mesi per l'erba ma sta cazzo è una prova che è quale le tette di transform ah fin culo dunque Velex Ball è un po' più forte del gioco dico Folletto quindi sempre buio spettro Folletto buio spettro eh veleno veleno? davvero Folletto Folletto non mi ricordo mai Folletto ma no questo qua non posso usarlo acciaio può essere un acciaio non mi ricordo può essere acciaio poi spoiler non lo posso usare eh no mi evito di usare quelli spoiler ah scusami vabbè li uso kangara allora eh 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 non c'è tutto raid frunzo quanto ci hai messo a cliccarlo eh ce l'avevi messo un po' in testa ai dinamax allora devo rifarlo metterli sull'amici metterli sull'amici dovi rifarlo? si metterli sull'amici vieni un po' vieni un po' eh ma ci sta oi ci sono gusti mi è sparito vabbè l'ho clicato ma è sparito anche a me fa molto cacare scapidibili ho sbagliato amici no esco esco senti sei partito? tu hai fatto eh sbaglio ho selezionato Eternut quindi ho per forza fare anche altro raid per sbloccarmi nuovi 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 eh è che mi avete cominciato bisogna fare tutti i raid per sbloccarmi nuovi no non è vero no ma non mi pare cioè a me da a me da tipo dalla sua side mi mette un po' le nuove i raid sì cioè madonna cioè non ho capito come funziona ma non è così perchè comunque ne ho sempre lasciato uno se ne crea otto alla volta sì ma vale è capitato che ne ho lasciato uno o due che non ho fatto perchè era un pokemon di merda e me li ha refreshati comunque dopo un po' no ma anche a me sono tutti diversi rispetto all'altra volta me cicciato davanti i Steelix come lo evitavo scusami eh a me invece non sono cinque nuovi ho mille monete e me ne vado non c'è nessuno hai perso no ho sbagliato ma siiii meno frame pokemon meno frame hai creato moro già si si grazie velsta grazie mille velsta grazie velsta grazie velsta è un po' più gigantesco si ma se li fai tu ti refresha subito vabbè quello lì si ma eh però lo stavo a fare po' rai di luce e dopo proviamo ho solo un raid basta che entrate bastardi eh ho capito mi è cicciato fuori Steelix come lo evitavo eh effettivamente è una bella barriera bella psico folletto o ancora ok io lascio ti devi abituare un po' però è fin anzi no metto di nuovo aspetta cos'è psico folletto scusate cosa vuol dire cos'è psico folletto? eh cos'è cos'è forte quanto psico folletto eh metti buio e... metti come prima spettro buio spettro spettro acciaio veleno vereno acciaio spettro veleno acciaio e veleno metto corvinite acciaio c'è corvinite buio forse no un contro folletto forse no allora aspetta cambio aspetta 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 buio no detto anch'io ah buio perde han detto acciaio spettro e vedevi no corvinite piezza? eh perchè se... no non va bene spettro metti eh no non va bene gang usi spettro scusa eh allora fate tutti i corvinite passati culo spettro c'ho guardi che comunque c'è l'altra volta ho fatto un eh... un raid viola di gardevoir era impossibile era difficilissimo come è impossibile? anche veleno nel massimo anche veleno nel massimo vabbè veleno è 2R su folletto scusa forse perchè c'ha mosse di merda di base di veleno eh perchè ti stai a conto si alza e lì e vai se li vedo tutto sotto la passerona eh no adesso adesso mi incazzo vedi l'agliuola rasata bravo ho toccato il twitch qui la mossoiris ha fatto come uno sbetti scusa posso sapere cosa ne pensate se l'avevate visto dei pokemon che hanno trovato nel codice di gioco no li ho visti li ho visti li ho visti è debole sono meschini cosa dite ma come parla super efficace è solo all'acciaio poi ma infatti spammerò all'acciaio bene devo mettere un altro mossoiris effettivamente 5x2 su veleno ah ok 5x2 su veleno perchè? no ho preso il contrario non lo so no non è il contrario se no era 4x su guardi guardi che grande orelie è ghiaccio cosa fai con ghiaccio? è ghiaccio come no madonna santissima però schiaffa oh si deve azzardare mai più che barriera architettronica che l'acciaio vero quello? è un plaganato un tiro che era addosso di acciaio no? cos'era? che dito grosso moreno vale che tira le sedie bravo spacca dello scudo tra l'altro c'è non so se avete visto su twitter c'è nel poche campeggio la scena di gardevoir e a terené o a teren a teren ma non si schiaffeggia che si prendono a sberl beh perchè si stanno sui coglioni e questo è il ho visto la clip dove c'è la silesca un calcio a togepi a togepi si c'è il beach slaps esatto sono bene quelle o sono no è vero sono bene vero non è che lo spara via di tira il calcio ma non succedono è vero nel senso che succedono per davvero nel gioco e si da quello ti andiamo infatti si si no in che modo potrebbe essere vero infatti scusate ho capito Marco no e non capivo la domanda perchè se l'ha visto e perchè c'era nel gioco eh ma anche i video eh ma io appunto che risposta era eh ma la mia risposta era perchè non capivo la sua domanda dico scusa vero in che senso eh nel senso che ma è perchè se l'ha fatto sciupare nella vita vera se l'hai visto la clip perchè c'è nel gioco è vero Marco si ho capito la domanda era stupida la sua non la vera no era stupida pure la risposta eh ma la risposta era stupida perchè era stupida la sua domanda ma non è vero che è stupido cioè ho chiesto se c'era la vera cosa e cosi era un fotomontaggio c'è ma io sto toccato infatti infatti ero un fotomontaggio eh infatti e allora è un fotomontaggio eh se l'ha visto dal vivo è perchè è nel gioco non l'ho visto dal vivo ti ho chiesto i video ti ho chiesto se ora mi dici ho visto il video questo e ti chiedo è vero? mi fa schifo poco ho capito ma sei deficiente senti che si intastardisce e poi non vuoi fare niente si è un deficiente bastardi senti 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 ho preso il garden water E poi non mi dà fastidio che stasera mi ammazzo tutti con un'ora di sono, sono nervoso che ha coltello Ma stai zitto, vai a dormire, è deficiente Eh vado a dormire, ciao Moro Stai collegato con le cucchie Eh, passo un ride, cavolo Scusami Sono passato tutti i ride adesso Eh, probabilmente le settano Che è successo? Un ride viola? Ma che cazzo è successo? Anche a me è comparso Non c'è nessun ride prima Oh stia ria quanti Però devo fare Devo scendere giù, devo scendere Ah vedi che avete bisogno di me allora No aspetta che rientro io Vabbè basta a me entrare due volte Mi draio così mi spoglio Vado, rientro io aspetta Allora, fammi usare l'acqua Ah è là nell'acqua, aspetta Eh schivata schivata, ma l'acqua Ma cazzo Ma scattati continuo sto cazzo del gioco Ma è possibile Oh no Che palle non riesco a catturare Che palle non riesco a catturare Ma non funziona Io c'ho un ride viola di Galvantula Galvantula? Cioè è l'evoluzione di... Chi è? Mi ricordo No mi è uscito, basta non lo voglio più Scusami è l'evoluzione della zecca Galvantula mi ricordo Ah ok, allora lo voglio Allora lo faccio Marca puttana Vorrei catturare mica volte ma continuo a uscire Vorrei... Vorrei non sbattere contro un bocco Ma meglio se copri Aspetta porca puttana Se siete in battaglia non la faccio Ah aspetta sei entrato Ah l'ho catturato Eh no l'ho tolto Sto schivando ogni singola cosa Morelli Non hai sempre la solta Non stai che cazzo schibile Ma non cosa siete ce l'ha di E io ancora rillaboomi squadra Che cosa... vai Morelli Hai fatto? Non lo so Marco mi deve dire Eh si si vai vai Eh? Adesso l'ho fatto Ah Ah Ho sbagliato Adesso è giusto Per quanto la cosa... Posso usare l'otta 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 va bene in teoria Io la posso usare Chi posso usare? E no poco forse anche No roccia L'erba Spera coleottero è super efficace sull'erba Vero? Mi pare di si Poi invece l'otta è super efficace L'otta è super efficace su coleottero? No? L'otta non era super efficace su coleottero? Si 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 Va bene Che schiacci... Gli insetti Era fuoco volante Era fuoco volante Era fuoco volante Ah no era roccia Era roccia Ora posso usare Ah una fuoco e roccia Altro amici Una cosa che ho scoperto ieri sera no? E che Su pokemon spada C'è la palestra di tipo Roccia Ok? Si Però Il simbolo della palestra di tipo roccia Grazie Grazie Luca Grazie Luca Il simbolo della palestra di tipo roccia E' il simbolo della terra E' un Evove E' un Evove Grazie anche Korra Aspetta 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 Le altre palestre non hanno Il terremoto va a mazzo tutti Le altre Le altre palestre non hanno simboli del loro tipo Hanno dei simboli Però quella di tipo terra Quella di tipo roccia Ha proprio il simbolo del Che c'è di fianco alle mosse di tipo terra E allora Ma che basta intanto poi sul sito delle mie pastiglie Non c'è un vuoto Non c'è più spazio Nel sito delle web Ah c'è Speriamo Ma come poi la dai bro allora? E fatti Vai via Scusa Sono nel raid Fammi finire Non puoi giocare se non sei in web Ah vabbè Tu hai detto non c'è bisogno di te E' appunto Mi muto Finalmente Attacchiamo Attacchiamo Che ti marca Attacchiamo Non c'è la terremota Non c'è la terremota Non c'è la terremota Che fanno Coincidenze Io non petto Mai Proprio Mi raccomando Allora Mi incendiate un po' Scusa per passare un turno poi Che fanno Cosa parla di un fucata Io ho Dainafiamma No dai una fiamma ultima fiamma che mi spegne il fuoco come è divento di tipo roccia e basta dopo ma scusa se qua voglio il Zoro Magdaro si vuole di questo? No, anche questo è il Zoro Magdaro no, che brutto questo coniglio ah quello di Ezra è purtroppo una merda si non è lo Zoro Magdaro, se non c'ho la Gigamax non si trovano mai ma non esiste, diciamo esiste, cosa esiste proprio? esiste e dove cazzo è però? cazzo ne so, si trovano nei falli con un VPN per esempio mi sono informato, in che senso come funziona? non sai cosa serve un VPN o non sai come funziona proprio il programma di NordVPN? eh 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 perchè spiegarti il programma... la gente è un po' lunga forse tecnicamente non è sul sito ma il programma è una cazzata da usare si, vai sul sito e via per quello, per spiegarti invece cos'è VPN possiamo spiegare altro in caso in caso quello che ha scritto il Nightbot è un bel riassuntino si, basta che vai lì sul sito poi anche c'è tutto spiegato comunque già lì si, è in passato la Dynamax c'erano tutti tecnicamente qua la Dynamax la Gigamax è un'altra cosa invece si, la Gigamax è un'evoluzione della Dynamax che però hanno solo determinati Pokémon ma non specie di Pokémon, proprio devi trovare il Pokémon che ha la Gigamax esatto in questo caso sono più forti perché no? eh... si cioè c'hanno una mossa speciale volendo puoi vedere anche Netflix il Netflix Home a voglia, si comunque avevo fatto terremoto ma purtroppo non è andato assieme faccio fangosberla, su Esprit però i commenti di sito non puoi andare male si, non è fatta hai ragione, quando c'hai ragione c'hai ragione vabbè ringrazio, se accorna d'arte c'è Danjohess Danjohess grazie i belli per le sub Danjohess ehm... non lo so acido la tipo questa cosa con la VPN ha un limite di intra o l'abbonamento ha un prevede limiti? no, non c'entra niente lì, che limite? non c'è un limite, è specifico che tu hai appassionato il limite di io e poi dove altro? ho fatto fangosberla su di te, ho paralizzato no, eri già paralizzato l'utilizzo fu fuori dal tuo canale no, proprio come si mette l'ho spiaccicato con un macchino di gigante come dicevo la tua città ti ha calmato oggi Marco eh che ci metto poco a darmi nel video quel Charizard alla Gigamax non tutti alla Gigamax area scusa no, esprite dico le cose a caso non farci caso no, non su te giù in chat se leggevo fatturo con la Master Ball questa la Master Ball scusa c'è bisogno non capisco, posso scusa allora, vado a compermi le palle tanto dopo ci vado a catturare uno ZigZoo con la Master Ball io l'ho usata tanto non ce ne faccio un cazzo io l'ho usata leggendario l'ho catturato alla seconda Ultra Ball e per catturare l'ultimo pochino che ti manca per non romperti più i goglioni e poi i Pokémon il problema è sempre trovarli i Pokémon è un po' difficilissimo del Pokédex io l'ho usata io l'ho usata Lapras no, non ce l'ho c'è il mio gatto poi ciao gatto come stai? ciao Marco, come va? non lo so l'ho catturato no Marco, hai vinto cinque dai zitto eh, sprit con te non parlo vieni stupida gatta dai le caramelle dynamax diventa più forte eh scudo anche il team le caramelle dynamax erano solo a potenziare però c'è un limite a dynamax quindi gliene puoi dare però quelli ggamax gliene puoi dare 5 sto sparito dynите ride che cazzo sono qui corro 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 non ha Gihuu mi c'è ancora quello viola in caso però è sempre quello staccato a miseria ah due Sorrock dobbbbb corb corb stiamoci nel Dretas non uno di l'A-R-A-R-A-R-Z hai in acqua il mio ognuno, cosa viola lì? troppo eh? ma io non posso salire, son bloccato a vedere sti stronzi chi sono che poi abbiamo fatto il raid di galvantula, ce l'ho qua da mezz'ora io per terra è deficiente, dove c'ho scrivati via? allora io c'ho un 5 stelle del polpolotta bello quello lì ma l'evoluzione, perchè mi sa che mi manca l'evoluzione io levo subito quel demonio davanti alla webcam guarda che bellina che è io levo subito stupido sei è veramente però come si dice? fermo eh se lo fai andare? la coda in faccia no però è deficiente al culo però vai allora io c'ho poi un'erba che non capisco veramente cosa sia sembra un... vedete un acqua io c'ho no io ne avevo uno adesso guarda vi faccio vedere dalla mia webcam cos'è mi sapevo in faccia i gatti se si amonto portare tutti al... al... alto cos'era? 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 che tipo è morelli? erba erba? cerrim eseras ah hop il curioso il piede palco torno il piede ed lì il piede Sì. Sì. Fammi vedere, allora... Questo qui cos'era? Il polipetto, 5 stelle. Tra un po' facciamola... Se no, uno sopra, vado a vedere. Ah, è mea, non è il mio. Caputana, sto... Sto maiale qui. Voglio andare sopra. Ti cattuo adesso io. Vado a buttare un desiobbo. Ma in quella palestra mi ha provato di merda, Marco. È proprio tua. Non l'ho paralizzato. Ma non l'ho paralizzato io, comunque. Ti ripeto, ho fatto pangosbevo, bastardo. Uno, due. Era super efficace, ma non posso paralizzarlo. Allora, io ho provato a buttare un desioblocco. Psico normale è... E coso? Quello nuovo... L'infermiere nuovo, come si chiama? Gli arroidi. E' NDD. Eh, facciamo. Ma ti prego. Vomitevole, a parte che ce l'ho già. NDD? NDD, si esatto. E' bruttissimo. Aspettate che vi ando a vedere cos'è questo qua qua sopra. Vado a comprare un po' di desioblocco. Cos'è la tua? Eh, aspetta, non c'è che era acqua e qualcun altro. Ho sbagliato. Ah, Marini era, no. Valeria? Vado a vedere il sedere, sì, Valeria Marini. E' viola. Ah, amici, coleottero a folletto cos'è? Coleottero a folletto. Vola, tipo. Ha le ali. E' un coleottero di vecchia genne, può essere. Coleottero a folletto. Che è che è colottero a folletto? Colottero a folletto... No, ecco... Forse Cutifly, si può essere Cutifly. Ah, Cutifly è un rimbombissimo. Io lo voglio più di qua. Eh, facciamolo, dai. Fa che c***o. Ah, il raid lo vuoi? Sbagliato, aspetta. Lo sottiamo anche poi. Sì, lo hanno investito in strada. Noi 5 stelle, comunque. Noi 5 stelle, scuso. E' certo. E' incredibile. C'è il Pidio ovunque adesso, guarda di te. Allora... Vedete se vici c'è fuori? Mi ha appena perso fuori, mi è sparito. Porca puttana. Ma che me è sparito? Ma è sparito, Marco. Ma lo vedo lì di me. Mi ha spilato. Adori. Che ce l'ho? Mi falla Marco, se no non avevi... No, aspetta, beh, è ricomparso. Se fai il riaggiornio, è ricomparso. Ah, che lo fa sì. Ah, io c'ho rimbambito qui davanti. Cosa vuol dire? 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 Sempre terra, scusa. No, non avevamo usato terra prima. Cosa abbiamo usato? Eh, fuoco, fuoco. Ma... Poco? Scusate, ma io ho accettato il coso, ma non mi è entrato. Eh, che ne hai prima fatto con te, Morelli? Eh, ma che cazzo vuol dire? Adesso? Mi culi. Eh, basta. Puoi aggiornare? Fatelo voi, fatelo. Sono lui da usare, che mi fa schifo. Mi annoia. Mi stufa. Un raid laggiù in fondo. Ma siamo in... Vabbè che ce l'ha aiutato. Ma sì, facciamolo così, tutto. Allora, io lo disinteghiamo poi in mente, non lo so. Qua giù c'è un botto di raid. Vado a vedere quali sono. Perchè io li mai prendo con questi tanti peli? Eh, sono ovunque adesso ti pediti. Eh, perchè è come se avessero una grande parrucca. Comunque io non ho animali più da un pezzo e c'è i suoi peli comunque. Tu puoi. Allora, stai dentro da webbomb, è fastidio che c'è. Cosa vuoi? No. Stai dentro da sulle webbomb? No, no. La prossima volta è in parte. Ma questo chi è? Naphtown? Allora mi lo mutati Marco. L'ho fatto anche prima. Poi mi chiami. Mi sei venuto, mi chiami. Se mi tolgo la webcam, mi richiami webcam, decidi. Tu l'hai chiamato Morelli prima? Io non lo so. Sì, sì. Ma hai detto Marco come va tutto a posto? Ho risposto. E dopo che ti sei smutato, l'ho fatto. Ho smutato per errore. Per 3, 9, 3 stelle. Ma questo è un drago grande. Sono riproposti, sì. Un drago? Un drago! E sul petto si ripropongono anche sotto le ascelle. Però lì li taglio. Eh no, li metto nella pasta. E qui tutto messo il fuoco. Mangia nella pasta. E fuoco e basta. Sì, direi sono messo tutto fuoco fatto. Ma perché me ne frega a me? Comunque era il vero. S'ho pensato adesso che non era Quito. È morto? È vivo! Eh? Ma nessuno si è... Un gigantino. No, lo facevate voi perché io sono anche metà. La faccio io, eh. Ho Pokémon. Dai, la faccio io nel prossimo. La faccio io? No, la faccio io. Ma cos'è questo? Io sono più bello, l'avete. Ho sbagliato. Cioè ho sbagliato, ho fallito. Con le ottero elettro, chi è? Mi è carito. Dai. Dai. Che gigamax almeno? A chi? A chi? A chi? Ah ma io non potevo comunque ragazzi. No. Però lo faccio lo stesso. Con le ottero elettro, chi è amici? Sto pensando. Ah è quello della seconda gen, l'aeroplanone può essere. Della seconda gen. Della seconda gen. Ma fa un culo, via. No, era ragno. No, no, era... No, ma quello di sole e luna, è sicuro. Era quadrato. Oppure c'ho questo qui che è Gloom. Ma che merda di Pokémon. Per favoris. Vabbè, c'è sembra che è il posto migliore del buon duro, lì. Sì. C'è il suo voglio. Quindi ammetti di essere uno stronzo, eh. C'è il suo di te? No. No. Guardi qui dietro la torre dei fantasmi, se ci butto un desiobus con gli d'Auliezza, eh. Il capo dei fantasmi. Gengar. E' veramente tosto, comunque. Gengar Gigamax, fa vedere. Gengar Gigamax, fa vedere. No, lo voglio assolutamente. Cazzo, Gengar Gigamax. Ma veramente? No. Eh. Ma ti pare? Ci ha messo due secondi. L'ho perduto neanche un po'. Però, aspetta. Però vuol dire che lì ci sono gli spettro. Esatto. Quindi si possono buttare i grandi desioblocchi lì finché non ti arriva Gengar Gigamax. Domanda. Possiamo provare. Se io ho già un Gigamax attivo, no, di raid. Grazie per la solita fatmomma. Morelli. Eh. Sì, ho già un raid Gigamax attivo nella mappa. Potrò essere un altro anche oppure dopo. Che cosa c'ho io, scusa. Vi hai di viola, posso prendere più di uno oppure in culo? Eh, no. A me non dispiace che Gengar Gigamax... Cioè, non è il mio preferito ma... No, che Gengar Gigamax mi piace un bot, è bellissimo eh. Proprio carino. Io ancora non ho visto Machamp. Gengar Gigamax? Eh no. Ah, perché te c'hai scudo, c'hai. Poi comunque non mi è mai capitato. È al Luna che non sono... Ma io ho una porta sulla corsa a vola. Ma io ho una porta sulla corsa a vola. Ma io ho una porta sulla corsa a vola. La porta sulla corsa a vola. La corsa a vola. Che aspetta a me è successo? Non mi aveva porto. Eh sì. C'è la palestra a rotta e la palestra a terra. Invece voi avete la palestra a ghiaccio e la palestra a spettro. Noi abbiamo Onion. Aspetta, è una tua scuola. Non pensiamo sulle versioni delle palestre. Non segui. Per forza, non segui il mondo dei videogiochi e del tuo lavoro. Ma non è che... Non c'è un articolo di queste cose qua. Come no? Come no? Porca puttana, era pienissimo ovunque. Eh certo, certo. Sono solo poco millenium. I gran putiferi. Eh? Sono solo poco millenium. Era pieno di articoli. Eh, poco millenium, scusa. Ma tutto è veramente stupido. Sei pieno. La sei? Ma non mi pare di aver messo una pagina nessuna. Porca miseria. Madonna eh. Ma li avete sulle liste? I miei articoli che ho entrato fuori, li ne ho visti. Eh, hai visto il pene allora. Guarda, se li guardi come guardi i nostri messaggi su Telegram siamo a posto. Non decidi perché sei di cazzo, guarda. È vero. Mi trovate la propa vostra, tua volta, uomo mio. Eh, l'ultima, una volta su 7 miliardi. Ah, l'ultima. Buono, io ti leggo sempre. Voi dovete sapere che quando noi scriviamo le cose su Telegram. Abbiamo il nostro gruppo di lavoro. Scriviamo sempre le cose su Telegram. Perché... Eh. E no, la gente le legge. E non ce le possiamo perdere nessuno di noi. Tranne Espre. Espre se le perde tutte. Si è perso due volte e poi... Due volte i miei coglioni. Due volte? Anche prima... Anche prima hai chiesto... È una roba che... L'elenca... Ah, prima arriva tutto il giorno che parliamo delle offerte Amazon. Ma per le offerte Amazon? No, io ho chiesto... Ma per le offerte Black Friday? Che volta aggiornamento Amazon? Eh, ma anche di quello... E ce l'ha scritto tutto, eh? Anche di quello ce l'ha scritto. Ce l'ha scritto tutto. Ma da mo... Cioè, almeno ieri sicuro. Sì, ieri ne avevamo parlato. Ti ha scritto però... Il Black Friday non c'è Marco. Ti ha scritto niente c'è Black Friday. C'è scritto. Io ti giuro... Ti giuro... Sulla mia famiglia... Che c'è scritto tutto. Sì, ma due giorni fa... Io ho chiesto oggi. Ma comunque... E lei che cambia? E lei che cambia? E si cambia? Ho detto... Aggiornamento Amazon... Il messaggio così a casa... Mettevo la cellulare... Ho detto... Ma hai, ci sono le offerte Black Friday? Quindi ho chiesto per sicurezza. E non c'è... Scusa, mi la posso chiedere? Ti sicuro la faccio. No, rimparai il culo. È giusto, scusa. Se non sono una cosa, la chiedo. Fammi andare a vedere la... Facciamo gli spett... Farmiamo gli spettro... Ma io volevo fare... Le cazzo di battaglia random. No, facciamo gli spettro. Qual è quello che tu devi dire? Facciamo le battaglie. Facciamo la battaglia random. Facciamo la battaglia random. Fanculo, io inizio gli scambi magici. Allora, scambio magici. Allora... Che cazzo si fa? Metti un Pokémon che non ti serve... Lo metti in scambio. Adobe! Ma scambio magico! Ma veramente! Avete giocato al gioco? Scambi Link! Scambi Link! Non hai fatto lo scambio, no? Non hai fatto lo scambio, no? Lì a sinistra, quando fai... Quando fai Y. Spogliere il gioco un attimino, eh. Cambio box. E dai, io ho un Pokémon che non ti serve. No! Oh, mano! Quando ne scambio... Facciamo tre... Tre Pokémon. Tre, ne volete fare? Allora... Io tra Abish lo mando via, sicuramente. Di Pokémon un'altra parte perché sennò... È il primo, lo mandiamo via. Vuoi salvare il gioco? Sì. Vedete. E io l'ho già fatto. Ma tanto che cazzo... Vediamo tutto comunque... Non è che c'è il codice qui. C'è il codice dopo quando combattiamo. No, vedete, non potete uno spoiler nel box. Ah, vabbè, sì. Grazie Giuseppe! Giuseppe di colpia! 100 bits! Grazie Giuseppe! In un altro posto. Non riesco a muoverlo perché... Grazie mille! Ok, io lo scambio l'ho fatto. Eh, a me sta ricercando però... A me sta ricercando, sì. Secondo, eh. Ah, solo questi a spostare. Questo qua lo metto in fondo, poi gli altri. 2v2... Non credo possiamo fare le 2v2. Cioè possiamo fare le 2v2 di due Pokémon. Cazzo, Mimicchio mi ha dato. A me sta ricercando continuamente. Non ve lo dico, non ce li diciamo i Pokémon. Però dobbiamo essere sinceri, eh. Cosa? Sì, se no, non lo imbrogliamo. Dobbiamo essere sinceri. Allora, che ci arriva dobbiamo usare le 2v2. Scambio, il più scopo è tutto sopprivo. Cambio completato. Cambio completato. Ma non è che ce l'ha scambiato noi, ma... Ti pare, Gliezar? È probabile, perché l'ha fatto in contemporanea. Però non sta succedendo niente. Eh, non ha fatto. Ah no, premi Ypsilon. Eh. No, Jesse, non credo. Facciamo il Mender, sì! Non l'ho detto, non l'ho detto. Eh, vabbè ormai te lo dite. Vabbè, il primo, il primo dei 3 ti ho detto. Cos'è sto schifo? La sera in Live Spark ci cacchiamo addosso forte. Come è il solito ultimamente. Ma bastardo, avete addosso un Pokémon di merda e avete già lo scambio! Adesso voglio i Tiger Rock di merda! Vabbè a fare il culo, vabbè! Te l'ho scambiato in pazza. Ok, poi. Ok, non diciamoci gli altri, non diciamoci gli altri. Ma sto cretino! Però me li devo ricordare, poi qualche cosa. Vabbè, sono 3. Vabbè! Io sto scambiando quelli nella stessa fila. Eh, vabbè. Allora, poi cosa posso scambiare? Vediamo. Non lo scambiarò via un po'? Vai! Ti scambio per... Fammi togliere sta testa di cazzo. Ma che cazzo! Vabbè. Vediamo un po' se lo trovo all'ora. Ma dai! Ma scusa! Ma si chiama... Ma si chiama... Si è scambiato un uguale. Ma si chiama Stupid Retard in fondo. Non ho visto i livelli ancora. Oh, va bene, Ratwan. Si è scambiato un uguale. Eh, io pure anche l'ho visto. Si chiama Stupid Retard in poco amore di aver scambiato. Ma dai! Ma come Stupid Retard? Ma non si dice! Ma non si dice! Sii! E' schifo il Pokemon Zucca! Non l'ho trovato... Cioè, non era... Non era... Non lo ho fatto proprio detto! Oh, stai rialzo via! Allora... Tentate ciò! Scambio completato! Perché? Devo fare l'ultimo, devo fare! Ehm... Come l'ho detto! Ok... Ehm... Questo non mi ha aspettato praticamente! Caspita di non me! Vabbè! Si, ma io non posso lottare! Io mi giusto... Ma per adesso Moro, anche io non so se lo son messo così bene! Vabbè, il primo lo sapete, ma... Eh Marco, lo son messo peggio io per ora! Vabbè che io... Il mio Mimikyu è a livello 1! E dà il nome in cinese! Anche me il Mimikyu è a livello 1! Ma che schifo! Ehm... Come si chiama sto qua? Vediamo un po'? Ah beh... Ok... Si chiama normale si chiama! Si chiama proprio! Un nome normale! Perfetto! E' ABQ! Si, no... Dovrebbe portarli a 50! Però appunto non hai mosse! Cambio completato! Si, a 50 te li porta però! Allora... L'ultimo scambio! L'ha detto con il giapponese o il cinese, credo! A me manca l'ultimo, vediamo! Ah... Vabbè scambio... La peccola del cacchio scambio qua! Intanto posso prendere 27! Ma porca puttana! Non ci credo! Ho sbagliato! Già mettere la squadra adesso, eh? Ho sbagliato, aspetta! Eh... Sì, maggior di sì! Io... Allora... Solo questi tre però! Non lo so! Li facciamo tutti e sei! No! Sennò ci mettiamo un quarto d'ora! Poi si vede già dobbiamo farne uno alla volta! Ah, vediamo! Perché non so come si fa... Paralino, dai! E' una... 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 Credo, eh! Ok, io... Ho fatto! Si vede, giù! Ma come confezione di patate mi ha dato questo qui? Teoricamente sì, tu ti controlli, spero, perché sennò... Eh dai, facciamo a turno! Abbiamo solo ricevuto stavolta? Ciao! Pecorella! Ti butto via! E ti riprendo? Vabbè! Una bottiglia di latte? Io sto facendo la spesa, invece, intanto! Beh? Beh, non ce l'arrivo, comunque, questo qua! Allora, d'avete? Guarda, dove so? Eccolo qua! 200 bitri della... Signor Ciccia! Grazie mille! State per ritardo, ma avevo da far tranquillo! Grazie mille, signor Ciccia! Sempre molto gentile! Allora, c'era... Purtroppo questo... Ah, infatti fa una cosa che mi perdi nei Pokémon un po' di sicuro, guarda! E li metto tutti in fold! Io quanti watt c'ho? C'ho un botto di watt adesso! Ok! Ho una centrale elettrica! Eh, non posso avere un Pokémon! Sesto! Sì, ma sono tutti veramente a livello bassissimo! Io purtroppo sono a posto! Io sono pronto, vado lì! Allora, aspetta, lo faccio prima io, dai! Eh! Come funziona qua? L'ok in link? Fai l'ok in link e dovete mettere la stessa password! Facciamo in doppio e singolo facciamo! No, in singolo, c'è tre Pokémon! Password! La solita, Esprit! Lì che bellissimo, George! Aspetta, sto lungo un po' con Marco! Ma li devo mettere in squadra da prima o me li fa scegliere lì dal Pokédex già? Tu puoi tirare per sicurezza! Ah, si può fare la lotta multipla comunque in quattro! Eh, lo facciamo! Ma in quattro siamo in tre? Ah, perché? No, siamo in quattro noi, perfino! Eh, non ho chiamato così io, perché mi è arrivato! Ah, proprio si può fare un lavoro lì! Aspetta, fammi rimettere in squadra... Ok, io ce l'ho fatto! Fammi rimettere in squadra per sicure, ti va! No, no, ma non stavo contando, ragazzi! È che non avevo capito che si poteva fare! Lotta in link, abbiamo detto, lotta multipla! Lotta multipla! Prima mettete la password... Aspetta, che mi mette... Questa è la password del grassè! Era l'altro che ho preso... Ah, non mi ricordo! Ah, eccolo qua! Però dice, verrà cercato un giocatore! Sì, se metti la password, teoricamente troverà noi! Quattro, ma io non vedo niente! Questa tipo di lotta, quattro allenatori si dividono in due squadre da due! Quattro, devo fare lotta in link... Lotta in link, lotta multipla! Prima metti la password, poi facciamo lotta multipla! Ok... Eh, Marte Grigio, ha fatto uno stronzo, eh! Ok, ecco fatto, ho messo la password! Ti vedo la lotta multipla! È la potenza del Ryorn! Ma stai cercando! Lotta multipla? Sì! Vai, cercate! Vai! Fa la mossa quando giri tutto intorno! Un roly-coly... Ma è shiny? Nooo! Noo, Ryorn! Si è che ha avuto successo! Esprit! Noo! Eccoci! Ok! Siamo simpaticissimi! Prima me! Sì, sì! Lotto multipla i 3p3, sì! Però è in doppia! Cioè due da una parte... Tu scegli le regole della lotta, vuoi continuare? Ah, sono io a scegliere le regole della lotta! Vabbè! Fai tutti al 50 e basta, poi! Scegli le regole della lotta! Metti tutti al 50! L'importante è quello! Tanto il mio livello 1 ci sarà comunque due mosse, immagino! Quindi... Ah, ma dice... Il lotte che seguono le regole tutti i Pokemon hanno portato il livello 50! Sì, esattamente così! Proprio Claudio Lippi, il carabiniere, lì, comunque! Tutti mesi, temessi, 1, 3, Pokemon... Musica casuale... Sono tornato... No, casualmente la musica, quella di Toby Fawkes... Eh, cioè? Quella della torre lotta, non so... Che si chiama? Sei hop... No, sono solo quelle di queste quale... Eh, ma sono casuale, vediamo quella che... Bene, va bene... Eh, sono casuale di nuovo anch'io... Devo fare via alla lotta? Oh, cattroia, che squadra! E no, deve... Ah, sì! Ah, ma ognuno lo può selezionare! Ma poi me li fa selezionare dopo? Sì, seleziona la squadra, li seleziona... Ho selezionato la mia squadra, ma non ho selezionato i 3 ancora! Come no? E non posso? Come faccio? E dici che alla squadra devi fare squadra 1 e devi fare... Ah, aspetta allora... No, io ho fatto... Cioè io li ho messi nella mia squadra... Eh, solo quelli... Ah, vabbè, li ho messi nella mia squadra e poi ne seleziono 3! Eh no, ma devi essere 3! Ma tu la tua squadra è da 6? Eh sì! Ma perché? Eh no, mi sono messo in squadra quelli che ho preso... Eh no! Eh, ma di Sole e Luna potevi selezionarli, scusami! Eh, non so se qui... Cioè, magari lo puoi fare anche qui... Eh, di Sole e Luna io ho sempre fatto... E puoi fare registra poco... Beh, che qua sono tornati indietro in tutto quanto... No, puoi farlo anche su squadra, fai X e registra poco... Eh, ma se faccio B adesso mi esce fuori dalla lotta proprio... No, devi fare... Selezioni... La squadra... Non posso perché è tutto pronto, sono in tutto pronto io! Hai fatto via la lotta e hai fatto già scusa? Ho fatto tutto pronto e sta caricandogli... E sta aspettando voi... E andiamo così... No, porca vacca Marco però scusa... Ho capito ma... Eh, ma... Perdona mia esprit, io in Sole e Luna ho fatto sempre così... Eh, ma la squadra si, prima di partire la lotta scusa! Ma lo scelta la squadra prima! Ma sì, mettete pronto, rompi balle! Via la lotta, vai! Gli toglierà tre a caso... Gli toglierà... Eh, ma se... Questa è una stupidagine se permetti, scusami! Magari li fai nuova! Eh, lo scelgo io chi devo... Chi devo mettere in capo, scusami! Quando devi... Selezioni una squadra... Dovi farlo lì! Ma non era così su Sole e Luna! Su Sole e Luna, in base a quello che dovevi fare... Te le selezionavi tu! Ah, ma aspetta! Ma devo scegliere io le squadre praticamente! Cosa sono io? Fai randomico! E mettere da una parte e dall'altra chi è chi! Fai a caso! Qua dicono che è ancora così! Ah, aspetta! Sto mettendo scelta la Tumata! Sono io, ho detto che è ancora così! Eh, ma comunque ne ha 6, scusa, in squadra! Sì, puoi scegliere... Ma non c'entra! Adesso probabilmente! Perché devo scegliere l'ordine! Ma adesso te lo faccio! E vedi che è come Sole e Luna! Ma andiamo con lui per prima, comunque! Beh, io non lo so... Vado con... Ma il mio si chiama... Scusa, il suo Wooper si chiama Felino! Perché? Perché no! Ma io adesso... Ok... Ma scusa, chi t'ha andato a te, Marco? Adesso vedo! Adesso si vedo! No, li vedo! Ne vedo 6, però! E io ne ho scelti 3! Ne ho messi 3! Eh, il 3 t'ha andato, scusa! Charmander... Charmander... Quagsmire, Lee Quagmire... E il Cagnolo... Eh, sì! Sono l'unico che ha fatto il primo piano nelle carte! Sì, Ponzio, c'è la live stanotte! E sarà Cacatoria! No, nel senso che fa cacare! Sì, è bellissimo! Se cacchiamo ad osso! Eh, Salandit è buono! Vabbè! Tirog è bellino, dai! Questo l'hanno chiamato Stupid Redwood comunque, Marco! Questo l'hanno chiamato! Poverino! Eh, io non so... Io non so... Oh, tetos! Eh, abbiamo... C'ho un cazzo di mosse! Si va a cazzo! Io ho Grappio, se ti può interessare! Io ho Grappio, se ti può interessare! Ammazzo... Ammazzo... Ma dai! Ma bastardo! Ma dai! Ma pure! Bavissimo Stupid Redwood! Ma dai! Mi attacco a entrambi! Allora ripetalo! È stato un brutto colpo fatto poi eh! È il suo nome, Marco! Perché... È il suo nome! È il suo nome! Guarda, ma io devo per forza farlo! Poveretto però! Eh, magari sta roba però la riportiamo più spesso! Si, a me diverte! A me è figa! Si, a me è diverte! Ci vediamo un po' di... Ti vediamo tipo... Venti... Scolette di merda da scambiare! Sarebbe bello da farlo anche in video! Magari poi... Vediamo se... Se una live viene carina... Possiamo anche rimetterla! Allora si può che... 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 Magari... Ogni tanto possiamo farla anche serie... Cioè ci scegliamo proprio la nostra squadra! Ma in questo modo lo tengo io per ser. Anche questo vado è tutto questo... Fa la testa cipolli! Ho i paralizzato! Perché il cazzo li ha... Delmaxato tu? Scusa! Climia di merda! Il reached light c'è tipo... Il post non ci risulta e ci trova, Minchia per uscigli... Ma un po' mi hai fatto... Ma... Qualcordino, non pensi... Sì, è pure lì! Eh, madonna, porca miseria! Eh, tra i quattro non era quello più forte Eh, tra i quattro non era quello più forte C'è, non mi ricordo che mosse ha all'inizio, però dopo è fortissimo Ma non l'hai ucciso Ma fortissimo, Charmander Che mossa li hai fatto Tre attacchi mi avete dato di più Eh, non c'erano tutte mosse normali, non è che qua sotto Sì, io ho colpito Esprit Ma non siamo in squadra insieme ragazzi Si che siamo in squadra insieme Marco Ma come siamo in squadra insieme? Io ho colpito te Ma sei un cretino scusa Ma io pensavo tutti contro tutti Ma sei un coglione! Ma scusa, due in rosso! Siamo da una parte o da una altra Ma dove sono i colori scusa? Siete uno da una parte e gli altri dall'altra No, sì, ma io pensavo tutti contro tutti Vabbè, gli ho tolto due, per carità Però... Ma tu puoi scegliere anche i miei qui Certo Vabbè, magari c'è una mossa che cura Ah, beh sì Era più bello tutti contro tutti Bello, però... Marco, oggi... Perfetto Comunque, io posso scegliere anche il traccio di merda Tu sei un po' ben razza di merda Eh, no, quello ti devo... Un po' barattimente Tu sei banalizzato sempre E' un po' stupido, ma... 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 E' un po' stupido, veramente Grazie Orange Grazie 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 Orange Snake Bene, bene Non mi ucciderei spirit così, giocatore Bene, bene Eh, Moro, magari rilinca le cose del... No Di Amazon E fanno tu, fanno E c'è tu il tastino Capito? I link ce li abbiamo tutti, eh, nel mondo Le mani Il tastino è più corto Eh, certo Perché io mi organizzo Fammi uccidere questa merda di cane, per lo favore Ahia Non mi ammazzi Non faccio più io, non in Dynamics, comunque Tra l'altro Mi micchio, best competitor E' morto Ma mi hai tolto la tua vita lo stesso E' morto E' morto Ma ti desideri, hai fatto Di essere rotto l'osso del corpo Si E' nato E' morto, mi dispiace Un po' con danno t'ho fatto, per tutte Eh Un' offerta per Xbox? Non lo so Ce n'era una buona per la Play 4 Comunque, aspettate che poi si chiama il prossimo spazio E' bello E' trapping E' trapping Ah, come si chiama il nome? Ah, non ho visto il nome Ah Siamo due Siamo due giappo Noi E' azione Siamo due Siamo due Siamo due Siamo due E' pulchissimo Quello di Espre Quello di Espre Non farlo Oh, e non muore mai Non muore mai Non muore mai Non muore mai Guarda che fa cacca merda E' bello E' bello Che schifezza E' superfeggio E' superfeggio Non mi piace questa squadra Cosa vuol dire che non c'erchi in magliali Non è che vuoi Ma guarda Faccia di c***o E' meglio così Non ti colpito tempo Ma vaffanculo Guarda Marco Mettiamoci a colpire E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto Era ora E' sei mesi Niente switch in offerta? Non so adesso Non so niente Aspettate Aspettate Venerdì Comunque Venerdì prossimo Niente Mi do che è morto Adesso Uso Ma come questo Lo comincio a vivere? Porta super retard Uso Lui Ma che bellissimo Abbiamo fatto degli scambi a caso Scambi prodigiosi Ma che c***o I vecchi scambi prodigiosi Ma che c***o Su chi? Ah su su Ma è velocissimo il tuo Faccia di merda Poi è velocissimo Un aereo? Eh si A meno che non sei quello sfigato Ma ecco Eh eh Ahahah Non me l'aspettavo Ma eh Attenzione Ma tu non farei fichetto Se ne ha fatto niente Eh? Ma che scusa? Tronzo Ma si aspetta anche tu Eh? Che devo fare tutto io Tronzo Ma scusami No Non mi ammazzare tutti Non mi ammazzare tutti E adesso ci ammazzare tutti Eh si Non ho capito perché sta questo qua Bastardo Mi tocca usare l'ultimo che ho il grandissimo Pitto Bastardo Beh l'hai visto? Tu l'hai già visto ma Ah Allora Allora Chi prendi tu? Eh io prendo il mio Ok allora io prendo il mio felino E tu prendi Pantun Che fanno Eccoli felino e Pantun Ma che cazzo? Ma che cazzo? Non fanno Non fanno Ma che cazzo? Non fanno C'è una mosse fortissima Ma dai c'ho due mosse C'ho Ma super efficace Ma guarda Ehm Però vabbè attaccarla a tutti e due Queste due Una roba io Non posso farlo più come prima Devo fare un'altra cosa Che mosse di merda Forca miseria Ma il Wingle è fortissimo Guarda come fa Ma io sono Sono su Guardalo Ma quanto? Eh si è super efficace Tossina? Una piccola tosse Eh eh Troppo Una piccola bronchite E' iperverato Ahi è una congelante Pazzo di poca Perchè? Colpo di fango Attualmente non ho mai visto congelare qualcuno in sto Pokémon No si ho fatto io questo Si Io non l'ho mai fatto Nella mia storia mai E neanche un gelato a Memo Reddine Neanche un gelato? Neanche un gelato? E non posso soltanto il Thomas Se no si stacca e non vedo più niente voi 100€ che offre E' un posto Max E' venduto Tutti contro di me quindi eh? No ma io ci ho assorbiato Assorbiato Un pezzo di merda di Esprit Ah e adesso come la mettiamo eh? Intanto tiro un peccone a Marco Grazie Mi hai spinto di in faccia ma pure Adesso con la calma eh Tanto sono iperavvelenato quindi vuol dire Che mi toglierà sempre il T1 Quindi Credo che sia una lenta agonia Io devo fare una cosa Questo Credo sia l'inicca si Oh magari Potrebbe essere anche lui in un'altra lingua Eeeh Eeeh Aia Non si ricorda più niente Adesso va via Che faccio qua? Adesso faccio qui Tu non sei il mio allenatore E se ne va Fatto ci salto niente Fortissimo Quagmire Prendete fine alle mie sofferenze Per favore Grazie E' morto col vele E' morto E' morto No non ho potuto usare il mio piccolo tic E' avevo anch'io gli hamper Ah si? Eh si lo trovavamo stupidi Però si chiamava Comodino Com'è che si chiama? Mi ricordo Si chiamava in un modo strano Volvello però Beh per la prossima volta facciamo magari una live soluzione Lo facciamo però tutti contro tutti Ma non esiste Ma non c'è Ma magari si può fare nelle regole Non c'è? Peccato Eh possiamo decidere noi di attaccarci così Non ha senso Ma comunque Raidiamo Antonio per favore Che mi chiama sempre Ah mi salvava prima Giustonio mi chiama sempre Amici ci vediamo così stanotte Sempre intorno a luna Che giociamo giochi o uo Mi cago dosso io alla fine Non è che E' un reattore porno Ti ricordo delle urlo O se no domenica che facciamo la nuova modalità di rainbow a questo punto Esattamente A casa dei papel Sì Ciao baby Ci vediamo Mai più Amano Qua